a questo l'ho messo allora io ho fatto un articolo sui cerchi ogni anno faccio articoli sui cerchi nel grano ce n'è ancora uno che devo fare purtroppo sono schiacciato dagli impegni dalle richieste delle mail dei messaggi dagli incontri sto cercando di riorganizzarmi per avere più tempo comunque per scrivere e spiegare le comunicazioni dei fratelli celesti perché mi hanno incaricato di fare questo c'è una mi hanno dato una precisa indicazione incarichiamo te di spiegare cerchi nel grano e quindi è un compito che assolvo lo sto facendo ma vorrei riamplificare e a volte entrano nel dettaglio quindi nell'articolo che trovate sulla pagina web di giorgio anche sulla mia scrissi un articolo su vari cerchi nel grano e riporto ma riporto per futura memoria la spiegazione di questo cerchio nel grano qui che è questo qui e nel vari nei vari simbolismi che ha questo cerchio nel grano vedete al centro c'è di nuovo una triquetra e quindi il segno è questo che sta accadendo fa parte sempre di quel ciclo del movimento delle due bestie e quindi il cerchio nel grano è da un lato un trischele il trischele o trischele è un antico simbolo solare di nuovo celtico che rappresenta il dio unico e le sue qualità forza saggezza amore ma anche il dinamismo vedete da è una svastica di fatto a tre braccia il dinamismo il movimento evolutivo che esso imprime alla creazione e ne determina il costante equilibrio delle forze dinamismo che costringe al riordino delle eventuali spinte disarmonizzanti quindi la fase apocalittica è una spinta per riarmonizzare la terribile disarmonizzazione provocata nel mondo dai nostri gravissimi errori per mancanza di conoscenza e per ambizione e dedizione ai valori di satana ma nell'articolo dico anche che il simbolo andatevelo a leggere un articolo dell'anno scorso c'è anche il simbolo di contaminazione biologica che lo immaginava il coronavirus però ce l'hanno detto vedete cerchio le tre fasi coronavirus l'hanno anticipato